Sono il presidente della casa A. Treviglio, mi chiamo Gianfranco Bonacina, sono nato a Treviglio il 28 dicembre 1941 e ho avuto la sfortuna di rimanere orfano dopo un primo anno di vita, perciò sono cresciuto con il nonno. Il nonno mi raccontava molto spesso di questa cassa rurale di Treviglio, allora veniva soprannominata la Banca del Pozzi che era l'allora direttore e cominciai a interiorizzare questa storia di una piccola banca che era molto conosciuta nella gente di Treviglio e soprattutto nella frazione dove io abitavo. Durante gli anni mio nonno e mia mamma, vedova, vollero che io studiassi, che frequentassi l'istituto per ragionieri qui a Treviglio, l'istituto Oberdan. Le possibilità economiche erano molto poche a casa mia e allora durante l'estate cercavo di aiutare i contadini nei campi, perché la mamma era contadina e il nonno falegname, per raggranellare qualche piccola somma per poter studiare durante l'anno scolastico. A fatica, ma con la consapevolezza che la fatica non doveva essere tradita e soprattutto la fiducia di chi me l'aveva data, il nonno e la mamma, mi impegnai moltissimo e finì il corso di studio in 5 anni. Mi sarebbe piaciuto dopo la scuola frequentare l'università, che sentivo loro parlare dei miei compagni di scuola che avevano più disponibilità, ma andai subito a lavorare perché le necessità familiari mie lo richiedevano e trovai questa possibilità nella federazione lombarda delle casse rurali, che era un organismo allora conosciuto solo da pochi, dove ho trovato un grande calore umano e soprattutto ebbi la possibilità di conoscere tutte le casse rurali della Lombardia, i direttori, i presidenti, i consigli di amministrazione, perché il mio compito era quello di assistere e di sostituire personale di queste piccole casse rurali, che aveva una storia grande, una storia di persone oneste, di persone coraggiose e di persone che trasferivano la fiducia a coloro che necessitavano di qualche bisogno. Lì iniziai a innamorarmi sempre più di questo mondo, l'ho interiorizzato talmente tanto che non riuscivo, facevo difficoltà a staccarmi quando era il sabato o la domenica e ricordo molto spesso la mia frequentazione alle assemblee di queste piccole casse rurali che si tenevano la domenica pomeriggio e molto spesso nella parrocchia o nella sacristia di questi piccoli paesi, stiamo parlando di oltre 40 anni fa, quando le casse rurali erano poco conosciute e addirittura ritengo che la stampa allora, oppure gli organi televisivi o radiofonici certamente non ne parlavano, eravamo piccoli, eravamo ricchi di entusiasmo, volevamo crescere, ma soprattutto avevamo ben presente tutti, non solo io, ma io l'ho imparato sempre di più in quegli anni, i valori che avevano contraddistinto i soci fondatori di tutte queste casse rurali. Milano mi piaceva, Milano scoprivo ogni giorno qualche cosa di nuovo, avevo rapporti sia pur come impiegato con le istituzioni, ma un bel giorno il direttore di allora della Cassa Rurale di Traviglio, attuale Presidente onorario, mi convocò proponendomi di venire a lavorare a Traviglio, praticamente ritornare a casa. Devo dire che inizialmente accolsi questa notizia con un po' di rammarico, perché a Milano mi trovavo bene, la grande città per un ragazzo di provincia era per me un insieme di cose nuove da scoprire anche nei vari angoli, nelle varie istituzioni, però a Traviglio il direttore, il comandatore Ferri, attuale Presidente onorario, mi diede fiducia e soprattutto mi ricordo la prima cosa che mi disse, guarda tu vieni a lavorare a Traviglio, devi fare tutto il percorso e non pensare a nessun aumento di stipendio, quello che prendi a Milano ti verrà dato qui a Traviglio, tocca a te dimostrare se hai il coraggio, la forza, la convinzione e l'entusiasmo di fare tutto il percorso in questa istituzione che già allora era un'istituzione molto conosciuta e soprattutto che dava molto fiducia, aveva una grande reputazione. Sin dall'inizio i collaboratori della Cassa Ruale, i dirigenti di allora, ma erano pochissimi perché l'organico eravamo in poche decine di persone, mi insegnarono soprattutto ad ascoltare le persone, a capire i bisogni delle persone e a mantenere sempre una coerenza il più possibile molto forte, perché non bisognava mai tradire chi veniva da noi, perché la Cassa Ruale di Traviglio esprimeva una reputazione e una coerenza sin da quando era nata, nel 1893. Io ho sempre declinato queste parole, questi valori che mi hanno così inculcato i miei predecessori nelle tre C, che contraddistingue un po' penso la Cassa Ruale di Traviglio, perché il nostro movimento si distingue per le due C, credito e cooperazione, ma io ho cercato un po' di trasformarli in coerenza, coraggio e cuore, coerenza nei principi e nei valori e nel cammino che la Cassa Ruale ha fatto e che dobbiamo tutti seguire e non cercare di deviare da questo percorso, perché è un percorso di storia, di fatiche e anche di successi avuti negli anni, anche nei momenti difficili. Il coraggio ad affrontare situazioni difficili, situazioni che magari erano rischiose per la clientela, per i nostri clienti, ma che comunque la Cassa ha cercato di affrontare con grande forza, con grande determinazione in alcuni casi per non tradire la fiducia dei nostri clienti, dei nostri risparmiatori, ma anche di chi utilizzava il credito e ha trascorso momenti difficili. La Cassa Ruale era sempre a fianco di queste persone e allora il cuore, in mezzo a queste due parole, coerenza e coraggio, è assolutamente indispensabile per mantenere sempre questa relazione viva, questo approccio di amicizia, di un'istituzione amica, di un'istituzione che è nata differente, diversa rispetto agli altri, perché nel 1893 di banche in Italia ce ne erano tantissime e allora potrebbe sembrare inutile oggi il ripensare di costituire una nuova banca, ma chi la fondò, la fondò con una caratteristica particolare per essere vicino a coloro che avevano bisogno, a coloro che dovevano essere ascoltati, all'uomo, perché l'uomo non deve essere mai dimenticato e deve essere sempre ascoltato. Una banca di credito cooperativo, altro non è che una banca nel sistema bancario italiano, è una banca cooperativa, è una banca fatta da migliaia di soci, nel nostro caso sono 18.000 soci e devo dire che ogni mese crescono, vuole dire che l'esempio e il modo di lavoro di questa istituzione, di questa banca cooperativa dove se vogliamo definire i proprietari, altro non sono che i soci, il territorio e le comunità, possiamo definire una public company in un termine un po' difficile, in termine inglese. È la banca del territorio, è la banca che deve far crescere un territorio, deve aiutare il territorio nei momenti difficili, deve vivere nel territorio e soprattutto deve osservare e cercare di trovare insieme al territorio delle soluzioni in caso di difficoltà. Ecco che qui uno potrebbe nel caso di Treviglio ripensare alle nostre adesioni alle grandi società di infrastrutture, perché noi vogliamo essere presenti per trasferire quello che loro decidano ai nostri soci, perché è giusto che tutti sappiano cosa avviene sul territorio, perché il territorio dobbiamo essere noi a costruirlo, a renderlo vivibile e soprattutto ad essere molto attenti ad eventuali infiltrazioni di illegalità. Diciamo che la Cassa Rurale di Treviglio, 5 anni fa, progettò questo percorso del distretto del bene comune, perché sentivo, in particolare io sentivo sempre più frequentemente parlare di distretti industriali, di vari distretti economici di cui l'Italia è ricca e sono degli esempi importantissimi a livello della nostra economia, però avendo nel nostro statuto anche le due parole, bene comune e anche coesione sociale, allora ho pensato di istituire il distretto del bene comune, che altro non è che un insieme di relazione e la capacità di coinvolgere istituzioni e persone del territorio per lavorare insieme su queste due parole, per realizzare il bene comune, perché la Cassa Rurale da sola, se prima riusciva a fare tante cose, con i bisogni che aumentano e soprattutto con le necessità che stanno crescendo, le povertà che si stanno accettuando, magari ritornando in modo diverso, più oculto rispetto a quelle che erano 100 anni fa, abbiamo ritenuto assolutamente necessario chiedere la collaborazione di tutte le istituzioni al territorio e tutte le persone di buona volontà, compreso artigiani, piccoli industriali, soci e coloro che credono in questo progetto e devo dire che sono tanti, perché tante persone, tutte devo dire, credono in questo distretto del bene comune, tutti vogliono vivere in un territorio dove ci sia delle ricchezze, ma non solo economiche, perché quelle magari uno le può costruire abbastanza in tempi veloci, ma soprattutto dove ci sia un rispetto, ci sia un rispetto della legalità, ci sia l'onestà e soprattutto ci sia un senso civico molto forte, perché non dobbiamo dimenticare il nostro paese, che è un paese ricco di tradizioni e soprattutto ricco di esempi come la Cassa Rurale di Treviglio, che devono essere ricordati, mantenuti vivi e soprattutto tramandati i giovani. Conservo, ma devo dire con grande stima e soprattutto con grande affetto, l'inizio di una Cassa Rurale, di un paese qui vicino che poi venne incorporata da Treviglio alla fine degli anni 60. È una cassettina di latta dove fino agli anni 70 il parroco che era direttore e presidente, il factotum di questa piccola Cassa Rurale, che però trasferiva fiducia e soprattutto trasferiva credibilità, dove in tutta questa piccola cassettina che è nel nostro archivio storico era conservata tutta la banca. Lì conservavano i libretti, conservavano il contante, conservavano le cambiali ed era conservata, non c'erano le cassaforti sotto il letto del parroco. Penso che allora fosse il posto più sicuro perché nessuno andava a disturbare il parroco.